ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Carrotakid in questo video vi inizierò una nuova serie su pokémon crono un hack molto bella a diretta dei forum che ho visitato niente iniziamo anzi abbassiamo un po il volume prima dunque iniziamo crono version soltanto l'inizio in inglese poi diventa tutto in italiano opzioni no perché ho sbagliato opzioni un posto pieno di misteri e abitato da strane creature chiamate pokémon questo è quello che chiamiamo pokémon un pochino in questa regione dovesse essere attento e distinguere i sogni dalla realtà la luce dal buio e la buona dal male c'è un segreto un segreto nascosta nella terra e dal mare un segreto che va alla cima del mondo sei pronto per questo si erede si salta da solo e tu dove vieni che cazzo vengo da su di new name carota caro carota so it's carota yeah molto bene ci incontreremo ancora fa paura durante la notte inizia a sudare discosso vedi posti che non ha mai visto ma sembrano così reali una voce ti chiama una voce lontana distante dove mi trovo cos'è questo posto oddio quello di prima aspetta lì c'è qualcuno forse lui sa dove ci troviamo ti stavo aspettando carota come conosci il mio nome questo non è importante ma chi sei tu dove ci troviamo siamo in un cimitero cimitero di detonvalli questa è la mia tomba sono vivo questo è impossibile sono appunto guarda tu stesso con i tuoi occhi non vedo è impossibile questo è solo un incubo forse o forse no e deciditi è un incubo è il tuo destino il tuo tutti moriamo alla fine quindi è logico che è il mio destino tutto passato tutto presente il tuo futuro chi sei tu non è la domanda corretta che cosa è qui chi sei tu è scomparso cosa che cazzo cosa succede ora mi sta tremando tutto facciamoci le seghe ok basta che incubo sembrava così reale e quel tipo incappucciato era del crucus come conosceva il mio nome a parte che era nero non bianco ho parlato della defon valley cosa c'entro io eppure mi sembrava di essere stato lì no è stato solo un sogno un televisore piatto un libro un computer che non funziona un qualcosa dunque ehi ma che ore sono devo sistemare l'orologio che ore sono cazzo aspetta massimo anche se ne frega sono le diciotto e ventisette piru 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 diciotto 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 oppla e ventisette da così facciamo yes ah boh buongiorno mamma mmm mmm ciò carota auguri per il tuo compleanno è il mio compleanno così per il tuo compleanno ti ho comprato un paio di scarpe nuove secondo me sono le scarpe da corsa forse cambio le scarpe wow sono perfetta grazie mamma ci sono le istruzioni da quando le scarpe hanno le istruzioni ci vediamo dopo mamma addio io parto per un lungo viaggio con i miei pokemon accanto a me questo questo che canzone inquietante ciao caro ehi ma chi che perché sono comparse persone caldo voglio diventare un'allenatrice bravo scusa eh compaiono persone boh chi è questo ah lucas chi è boh mister rufus cercando qualcuno che faccia mmmm un lavoretto per lui pedofilo sei sicuro bene ti aspetto davanti io non voglio fare il lavoretto per signor rufus che schifo chi è questo uuuu a cab mi sono capito che che lavoro importante ah ma posso correre uuuu eccolo c'è ok sei in ritardo uuuu arcanine che belli c'è nessuno in casa uuuu che potenza come mai da queste parti c'è qualcuno che potrebbe a contattare quel suo amico che vive di cui mi ha parlato si ricordo benissimo chi sarebbe e lui e carota sono di fianco a te vecchio rimbambito un tipo penso che sia la persona più adatta per questo lavoro ovvero devo andare ci vediamo dopo allora carota ti ho già parlato del lavoro cosa dovresti fare no di che cosa si tratta devo andare a parlare il collens mmm deve trovarsi non molto a redville e dov'è redville devo incontrarci allora se devi incontrare vai te beh non è che vado io ah non può non posso andare ok prima che tu parta ha dimenticato lo zaino nel piccolo parto parto sei parto partorito lo zaino potete recuperare per me ok vado ci vediamo dopo ciao un arcanine wow un arcanine sta dormendo bene andiamo vediamo oh oh altro che pokemon x y qua ci si può sedere sulle panchine andiamo eccolo l'ha perso lontano eh devo riportarlo grrrr ehi fermati non è tuo allora inseguiamolo si bravo corri corri adesso corro anch'io così un pochino di cazzo e cos'è sta cosa? aspetta forse devo come cazzo si fa? forse così devo fare no sbaglio no allora devo forse capire come farfetch su sul silver era adesso non mi scapi più go pokeball questo zaino è mio io catturo lo stronzo è il mio starter oh riflesso che fino ok magari se mi pettino la mattina è meglio perché con i cappelli mi trovo andiamo a riportarli ehi carota ottimo lavoro perché questo pokemon è pochiera è molto dispettoso ma che c'è sti accenti giganti noi ci fanno una mia missione devi andare a redville per incontrare nas devi avere un pacco molto importante e ce l'ho non riconoscerai perché ho un mantello rosso ok a più tardi esploriamo la casa un telefono è un tele- no ma è un telefono non l'avevo visto che era un telefono non posso passare i fini subito l'incontro ah vediamo dov'è bag non c'ho niente ah giusto non ancora inizia dunque assistente svelti chi sono quei tipi insieme all'assistente e chi come faccio a sapere ah bene abito qua cosa stanno facendo silenzio prendete l'arca 9 e dirigetevi verso il nascondiglio complici team rocket molto bene ora andate che stro che straccia oh mio dio oh mio arceus stava meglio mi inseguo no io non voglio voglio andare a casa vabbè dunque direi che come primo video possiamo chiudere qui mettete mi piace se vi è piaciuto naturalmente è solo l'inizio quindi continuate a seguirmi e ricordo mettete mi piace e commentate anche ciao ciao ciao